Lo so, credo. No, lui non voleva, non voleva che te lo chiedessi. È simpatico, ti piacerà molto. Non era niente di che, è stata solo una stupida discussione con il suo capodipartimento. Fantastico, Frenny, è magnifico. Va bene. Ci sentiamo, ciao. Dovevi raccontargli tutto? Lui è Frenny, non gli interessa. Quando è l'ultima volta che hai visto questo tizio? Questo tizio? Io non l'ho mai conosciuto, no? E chi ha detto? Ecco, ha detto di sì. Ha detto di sì, cosa vorrebbe dire? Ha detto sì, non ci saranno problemi. Per cosa, un lavoro o un colloquio? Credo di averti trovato un lavoro. Sì. Incredibile, lui può fare una cosa del genere. Ci sono poche cose che non possa fare.